Siamo all'estrazione dei gironi del terzo trofeo Riviera Oggi con Antonio Mammagnanimi che è gestore della struttura del centro sportivo Eleonora che ci ospiterà. Albula Centro, Marina Centro e Mare sono le teste di serie dei tre gironi da tre quest'anno, da nove partecipanti al torneo. Sono tasse di serie le tre prime classificate della scorsa edizione, sarà una prima fase a gironi andata e ritorno e poi le fasi eliminazione diretta fino alla finale. Adesso procediamo all'estrazione della prima squadra che affronterà Albula Centro nel girone. Quindi la seconda squadra del girone A perché Albula Centro è già di diritto come una prima squadra. insieme ad Albula Centro va Sant'Antonio. Adesso la seconda squadra del girone B quindi andrà a giocare con Marina Centro. Ricordiamo che iniziamo il 29 maggio. mercoledì alle 20 e 30. Poi si giocherà ancora domenica a due giorni. Vediamo la terza squadra del girone C, mentre il girone A Albula Centro e Sant'Antonio, il girone B Marina Centro e Salaria. Mare invece giocherà contro, sta per estrarre Antonio. Sant'Antonio. 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 E' un derby. Un grande derby. Andiamo qui la destino. Come quando durante la Champions League vedete i dirigenti, qui ci sono i dirigenti in trepidante attesa. Modello Champions League. La terza squadra è il girone A che giocherà con Albula Centro e Sant'Antonio, che è già un girone di ferro questo. Vediamo, vediamo. Ragnola. Ragnola. Girone B. Si comporrà di Marina Centro, Salaria e... Vedremo adesso che ci dice Antonio. Andiamo. Antonio che ci ospita col Centro Eleonora per questo torneo. Paese Alto. Paese Alto. Giocherà con Marina Centro e Salaria. E l'ultimo lo dovrà indovinare Mazzarella. Qual è l'ultimo? L'agraria. C'è l'agraria. Cosa manca? L'ultimo è l'agraria. Vediamo la regolarità di questa estrazione. Però controlliamo che ci sia l'agraria qui dentro. Effettivamente. Altrimenti salta tutto. Salta tutto. Salta il banco. Quindi la prima partita adesso è l'agraria quando si abbandona. E c'è infatti l'agraria. Agraria. Quindi questi sono i gironi. La prima partita. Albula Centro, Sant'Antonio e Ragnola al girone A. Marina Centro, Salaria e Paese Alto, girone B. Mare, Sentina e Agraria, girone C. Ricordo che si affronteranno in partite di andata e ritorno per stabilire la gradatoria del girone. e poi si passerà alle fasi successive eliminazione diretta. Quindi mercoledì si gioca la prima partita che è al Bula Centro contro Sant'Antonio alle 20.30. Alle 21.30 invece ci sarà Marina Centro, Salaria. Mentre un'ora dopo alle 22.30 sarà la volta di Mare e Sentina. Da noi tutti è un piacere risentirci. Grazie. Grazie a tutti.